Musica Assolutamente da provare, ti dà modo di entrare in sintonia con la moto Bello, una Gataland Ottima esperienza, adesso c'ho il bis, quindi tra un paio d'ore, volentieri lo rifaccio Eh, bella moto È una bestia Bella Molto divertente Bellissima erogazione, non scorbutica, ma molto presente Spettacolare Bella, maneggevole, divertente, veloce in curva Non si sentono buchi di erogazione, non si sentono vibrazioni, non si sente nulla, è eccezionale Nuova concezione di moto Bellissima giornata, gente spettacolare, moto stupende, direi organizzazione eccellente La giornata è stata splendida, organizzata in maniera eccellente Non si poteva chiedere di meglio, sinceramente, da una giornata organizzata così Non si poteva chiedere di più Non si poteva chiedere di più Non si poteva chiedere di più